Salve ragazzuoli, io sono Escobar, questo è il mio canale e benvenuti a tutti per coloro ancora si fossero iscritti iscrivano, per coloro che sono iscritti rimangono con me perché usceranno sempre alcun con i video Allora, cosa è accaduto? Mi sono appena arrivati Yesilverado che aspettavo con ansia da tempo in questo caso non farò il nome dell'attività da cui le ho acquistati mi sembrano in buone condizioni il corriere GLS mi ha delicatamente passato il pacco dal finestrino ragazzi in corsa dal finestrino in corsa mi ha detto oh ma sei tu, sì sono io, me l'ha dato in mano, ha fatto ciao e se ne è andato e io ok vabbè ho capito che siamo in periodo covid però non è che puoi giocare a palla con animali e niente ragazzi adesso farò un adattamento che durerà circa allora per quanto riguarda la temperatura della vasca penso una mezz'oretta poi dopo li andrò a mettere in questo secchio e con un adattamento a goccia piano piano cercherò comunque di portarli agli stessi valori della vasca che ho qui anche se la vasca è in derivazione ha comunque i stessi valori dell'acqua che utilizzo io quindi di conseguenza non ci dovrebbero essere particolari problemi e niente ragazzi speriamo che si adattino alla perfezione che vadino avanti perché perché comunque mi sono costati ragazzi ora spedizione e due coppie di questi 43,80 euro uno sproposito e dentro al pacco c'era pure un sacchetto di acqua io ho detto oh guarda forse c'è un regalo no neanche per l'anticamera del non vi dico di cosa c'era un'altra busta come quella ma vuota con dell'acqua ok e adesso ho capito perché ho dovuto pagare 14,80 euro di spedizioni perché mi fosse costata di meno cioè fosse pesata di meno mi sarebbe costata di meno ce la topo scusate il mio topone coccolone cagnone ragazzoli poi magari vi aggiorno dopo su come sta andando la cosa spero che cioè io sinceramente cioè li amo questi esemplari sono molto belli però le modalità non mi sono piaciute come vi devo dire non voglio citare l'attività non voglio citare il negozio perché non lo farò ma sono rimasto molto deluso ragazzoli gli esemplari comunque sono stupendi non so se si riescono comunque a farveli vedere anche perché si vede dietro la cucina poi magari ve li faccio vedere meglio che poi all'inizio ne vedevo solamente un maschio e una femmina ho detto no qua mi hanno fatto il pacco oggi non va non va bene questa cosa non va proprio bene e niente a dopo ciao belli ciao